I cittadini di Bitonto spediscono cartoline a Nichi Vendola. 90.000 tante quanti sono gli utenti dell'ospedale che il piano di riordino della Giunta Vendola penalizza. Chiedono di vedere tutelato il loro diritto alla salute perché, con l'applicazione del piano di riordino ospedaliero, Bitonto perderà pezzi importanti. L'ospedale si trasformerà in casa della salute, ovvero un presidio sanitario depotenziato, senza i reparti di fisiatria, senza i laboratori di analisi e con un pronto soccorso che diventerà punto di primo soccorso. Ma il popolo della libertà non ci sta e per questo ha organizzato la manifestazione davanti all'ospedale cittadino. Tra il 14 e il 16 agosto sono spariti 14 posti letto di lungodegenza. Allora non vogliamo strumentalizzare, però vogliamo che siano lasciati servizi assistenziali minimi, soprattutto per le fasce deboli della popolazione, come per esempio gli anziani. Noi abbiamo tutta la volontà di mediare, chiediamo che siano assicurati questi servizi per i nostri concittadini, quindi si può mediare. A portare solidarietà alla città di Bitonto, numerosi esponenti del PDL pugliese. Si è trovato un accordo a Santeramo, è stato fatto un passo indietro dall'assessore, si è trovato un accordo su delle rinunce, però si è creata anche qualche altra cosa in più rispetto alla cittadina di Santeramo. Bitonto che è una città di 80.000 abitanti, ritengo che debba avere un'attenzione diversa. Io sono qui per portare la solidarietà alla popolazione di una città di oltre 50.000 abitanti che è stata completamente presa in giro dalle promesse del Presidente Vendola, che è venuto qui due volte a promettere la riapertura di tutti i reparti dell'ospedale che oggi con una scure indegna e impietosa lo chiude completamente.